Aumentano in Italia gli spazi web bloccati per attività antiterrorismo online. Sono stati 178.000 quelli oggetto di approfondimento investigativo e tra questi 2.600 risorse digitali sono state oscurate poiché caratterizzate da un contenuto illecito, un numero 7 volte maggiore rispetto all'anno precedente, quando erano stati 321. E quanto emerge dai dati della Polizia Postale e dei centri operativi Sicurezza? In merito al contrasto al fenomeno del cyberterrorismo e in genere dell'estremismo in rete. Aumentano nel 2023 i casi di truffe online nel settore dell'e-commerce. Sono stati 13.325, mentre le persone indagate sono state 3.571 per un totale di somme sottratte pari a oltre 137 milioni e quanto emerge dai dati della Polizia Postale.